ex deputata ma anche ex drag queen il passato di vladimir luxuria custodisce dei retroscena inediti e bollenti alcuni di questi li racconta nel documentario di roberto d'agostino e marco giusti roma santa e dannata la conduttrice della prossima edizione dell'isola dei famosi era la regina del mucassassina un noto locale lgbtq romano dove la trasgressione è sempre stato l'ingrediente principale era una sala unica con un palco molto alto e noi lo chiamavamo la o musica frocia la carrà gli abba tutto quello che ci faceva sbattere e ancheggiare come dei capitoni a fine serata si accendevano le luci e si metteva il sirtachi tutti ci tenevamo mano per mano come la danza della vita di matisse c'era il gay la lesbica la trans part time la trans full time l'eterosessuale lettero flessibile tra i frequentatori della discoteca anche personaggi famosi mi chiedevano mica ci sono i fotografi perché avevano paura di farsi vedere dopo un po di anni quando mucassassina era diventato un evento gli stessi chiedevano che ci fossero i fotografi sai quanti politici mi si sono avvicinati quando sono stata eletta deputata che mi dicevano non dire che me hai visto al mucassassina è e io no chi ti ha visto stavi sempre nella dark room infine sempre sui politici un'altra bella stoccata quanti ne ho conosciuti che di giorno stavano lì a dire un noi difendiamo i valori della famiglia e la sera te li trovi calati nel parco a 90 non accogliere le margherite real video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche grazie per il vostro supporto